eccoci qua con questo duo di amici dopo non so mai se sono amici nella vita si sono fidanzati vicini di casa e avete la stessa passione per una delle tante diciamo che qua quando si registra si può dire il canto tutto il resto si può dire solo palazzolo per la casa chi va dall'altra a uno sopra e uno sotto? lui abita sopra e lo abita sotto poi c'è una terza che è in giro capito in parte lei non vede niente lei non vede non parla non sente veramente siamo sempre da lei è una donna giusto? sì cioè alessandro non sai quanto ti invidio se io ho 26 anni ho sempre sognato di stare in casa con due donne eh ma tanto eh non si può fare niente ma qua anche questa registrazione va sì certo si può dire qua si può dire tutto no passare anche questo sul video tutto certo nooo sono innamorato ah innamorato qua tutto taglialo ti prego qua tutto a palazzolo san dell'amore di alessandro per lucia da palazzolo allora fuori mi stanno dicendo di alciare il vestito sì ah giusto o la maglietta sì eh esatto e la maglietta no perché dopo io è pericoloso molto pericoloso allora ragazzi Alessandra e Lucia di palazzolo che canzone volete cantare voi che so che siete ottimi cantanti ti lascerò di Anna Ox e Fausto Leali ok ovviamente quindi sicuramente avete scelto una canzone per un duo io faccio silenzio perché faccio parlare delle bruttative prego chi parte è sempre l'uomo e parte in tutto direi non solo nel tempo chi dà ragione ti lascerò andare ma in difesa come sei farei di tutto per poterci poterti trattenere perché potrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno ti lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare ma è la tua vita e non trattarla male ti lascerò ti lascerò crescere ti lascerò scegliere ti lascerò anche sbagliare ti lascerò mi lascerò decidere perché sarà al tuo fianco il nostro piede permettere di dirmi che sei stanco e lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il suo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare il mio silenzio lo sentirei gridare ti lascerò ti lascerò ti lascerò ti lascerò ti lascerò lascerò ai tuoi sorrisi la voglia di scoppiare e di tuo orgoglio lo lascerò sbagliare ti lascerò ti lascerò ti lascerò credere ti lascerò ti lascerò ti lascerò ti lascerò Ti lascerò, viverei Ti lascerò, ti lascerò Beh, che dire, la sicurezza non viene a buttarmi fuori Siamo in diretta, abbiamo registrato, fuori applaudono, stand in ovation per loro Niente, qua non vogliono cantare più nessuno, cioè, non vogliono più entrare Non vogliono più entrare Questa qua anche se abbiamo avuto applaude, dice, non vogliono applaude, applaude, non vado neanche sentire Allora Alessandro e Lucia Niente, che dire, il 2 di Palazzolo, spero che ogni tanto venga a trovarmi qui al convento Dato ai Palazzolo, entrate in autostrada, entrate a Palazzolo, uscite a desezza Fate poca fatica, venite a trovarmi, così almeno vi tirate su un po' di morale Perché qui il livello è come una strada in discesa Vedi solo la fine, non vedi mai che c'è subito solo basso Quindi voi almeno vi mettete la prima per risalire qua Perché a volte le cuffie devo anche tirarle via Allora ragazzi, vi auguro ancora una buona serata qui al convento di Lonato E vi aspetto prossimamente qui a cantare ospiti ufficiali Vi do l'invito ufficiale nell'area YouTube convento di Lonato di Brescia Ciao